Cos'è? Ma è un tatuaggio? È un tatuaggio di Natale, sapete quelli che si illuminano? Ma è la prima volta che lo vedo, cioè? Cosa diamo lei? Qualcuno di voi lo sa. Questo cos'è? Oh, madre natura che fa vedere i muscoli! Un giorno noi andremo a uno di questi ristoranti, però aspetta cos'è? È ghiaccio secco? No! Vuole fare la bolla di sapone con il ghiaccio secco? Dai scoppiala, 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 scoppiala! Dai, ti prego, non puoi lasciarla così! No! Non l'ha fatto vedere! Oh! No, 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 aspetta! Cosa? Cosa sto vedendo? Non è nemmeno umana una cosa del genere, come fa? Ma è velocizzato, penso. No, ma non può essere velocizzato. Ciao a tutti, io sono Vittorio e oggi video che ci stupiranno, vediamo. Cosa? Aspetta! Non ho capito che questo apparecchio riesce a cancellare ciò che è scritto sui compiti. Vittorio, tu hai scritto che 2 più 2 è uguale a 5. No, prof, non è vero! Grazie al cancella compiti 2.000! Ma è stupendo! Cos'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro? È un granchio? È un granchio? No, 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 che schifo! Io so paura dei granchi che magari dimostrano a pizzicare. Evfidatevi che fanno male. Ok, cos'è questa? È l'aloe? L'aloe? Che schifo! Sembra moccio del naso! Cosa fa? Con questo fanno tutte quelle cremine, tutte quelle cose... Però fa bene alla pelle, o almeno dovrebbe far bene. Ok, cosa? Cosa? La mia testa! Aspetta, aspetta, aspetta. Come diavolo fa? Non riesco a capire come si fa. Così? No? Non ci riesco. Voi riuscite a farlo? Scrivetelo nei commenti. Cosa sta tagliando qua? Un blocco di ghiaccio? No, non è ghiaccio. È... Non so cosa sia, ma è bellissimo da vedere. Perché è tutto così perfetto. Perfetto e pulito. No! È tipo Elsa! Quando tocca tipo... O qualsiasi cosa, diventa di ghiaccio. No, aspetta. Non saltare. Non saltare sopra sta roba che secca di là dentro. È una schifezza! Dai! Mi fa schifo vedere queste cose. Ok, però... Aspetta, dovrebbe... Dovrebbe bucarsi adesso. No, spero di no per lei. Ma credo che... Non so neanche cosa sia, sinceramente. Sappie mobili. Aspetta. Cos'è qua? Dei magneti? No, della cioccolata? No. No, sono dei magneti! Che belli! No! Wow! Che stanno facendo? I capelli con lo slime? Che è sta schifezza? Cosa diavolo stanno facendo? Ok, non ne capisco nulla di sciampi e capelli, ma è bello comunque da vedere. Oh, mammina! Ma di cosa sono fatte le guance di quest'uomo? Di plastica? Di elastici? Come fa? Aspetta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Hai sei dita? Ma... No! No, ma è fatto benissimo! Ma che è creta? Cosa? Mi hai illuso! Ci hai illusi! Aspetta, è una fontana? Ma... Una fontana di schifezza però perfetta! Guardate le forme come sono fatte bene! Ah, io mi ci tufferei dentro quasi quasi! No, 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 fa schifo! Ok, cos'è? No! Aspetta, scoppiala, scoppiala! Ti prego, se non la scoppia adesso mi arrabbio! Ah, che bello! Che bello! Ok, ma guarda com'è felice! Sì! Wow, questa è la fabbrica di pane più figa che abbia mai visto in tutta la mia vita! Guardateli! Li incartano pure! Li mettono già nella plastica e tutto quanto pronto! Cioè non devi fare nulla! Basti che metti il pane appena sformato lì e poi la macchina fa tutto quanto! Perfetto! Questa è la macchina del... Ah, fa il simbolo della Toyota con il laser! È il laser che taglia l'acciaio! Oh mamma, non voglio metterci il dito là sotto! Cosa ti ha... Ma è geniale questa cosa! Ma perché non ci avevo mai pensato prima? Vedi, i nostri parrucchieri sono ancora retro, sono ancora dietro! Qua hanno già capito che con il macete fai prima che con le forbici! Eh... Nooooooo! Nooo! Che bella! Andiamo in un parco acquatico come questo! Mi frego! Mi manca l'estate! Voglio fare questi scivoli! No, aspetta! Ma ti viene da vomitare se fai così? Ti viene da vomitare! Come fai non vomitare? Oh mamma, questo non è un acqua scivolo! Là non ci vado! Ok, questa è una manti... Nooo! Ma aspetta! Ma non l'avevo manco vista la tartaruga! No, c'è la rana, scusate, volevo dire! Non l'avevo manco vista! Guarda, si è tenete asportata nella bocca della rana, poveretta! Mi dispiace! Guarda, si era mimetizzata! Infatti non l'ho vista io e nemmeno lei, giustamente! Per questo che adesso riposo in pace! No, no, corri, 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 corri! Prima che sia troppo tardi! Prima che sia troppo tardi! Vieni, arriva, 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 ce l'ha fatta! Meno male! Mannaggia, volevo che si impagnasse! Ok, qua cos'è? Oddio, sembravo un iPhone! Se proprio l'ho fatto, ho detto... Ma perché diavolo è diventato così malleabile all'improvvisa? Perché è una slime a forma di iPhone! Ma come fanno a farli così perfetti? Cioè dovrebbero creare le università per fare gli slime! E là tipo... E là tipo puoi creare quello che vuoi! Cos'è qua? Cos'è? Ah, puoi andare a mangiare all'elefante! Cioè noi siamo ancora ai croccantini al cane! Mentre qua invece puoi dare i meloni agli elefanti! In India è tutto più gigantesco! Ah, questo cos'è? Oh! Madre natura che fa vedere i muscoli! È un Geyser! Aspetta, aspetta, aspetta! Dai, fai scoppiare quel pallone! Ah, no, aspetta! Stanno facendo le scarpe! Le scarpe con il pallone! Sì, perché tu metti il palloncino di plastica e così si forma la scarpa, hai visto? Vero, vero, c'è questa tecnica che proprio metti il piede sul pallone e poi la scappetta! Cos'è questa? Una papaya? È una papaya? Cos'è la papaya? Non lo so manco io! Ma, ma! No, le piscine con le onde! No, ma che casino! Ecco, proprio in questa situazione stare là in mezzo credo che non sia il massimo! Guarda quanta gente! Cosa? Cioè, aspetta, tanto doffrina! Dalle uova crea delle salsicce? Sta mettendo le uova ed escono delle salsicce! Ma come? Cosa? In che modo? Non, 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 non capisco! Non capisco! Cosa c'entrano le salsicce con le uova? Aiutatemi! No, che figoli! Amo tantissimo il food art! Fanno le farfalle con i pomodori! Cos'è qua dentro? Cosa esce qua dentro? Prima c'è il granchio, adesso cosa esce? Cosa c'è? Cosa c'è? Oh! Cosa c'è qua dentro? Un pesce? No, conchiglie? Cozze? Conchiglie? Sì! Ecco un metodo facile per raccogliere le conchiglie quando andate al mare! Io già lo sapevo tanto, quindi è inutile che guardo questo video! Facevo sempre quando ero un bambino, quindi... Questa cos'è qua dentro? Cos'è? Dai, mi fa schifo però sta roba! Non so neanche cosa sia! Allora, poi c'è questo mistero di questi cani che sembrano minuscoli in confronto alla ciabatta! In realtà è che sia la ciabatta è gigantesca e se i cani sono molto molto piccoli! Quindi, svelato il mistero! Il vostro pittorio di fiducia ve l'ha detto! Cos'è qua? Cosa c'è? Cos'è? Cos'è? No! Piccolino! No, no! Vai via dalla strada! Vai via dalla strada! Perché se no ti mettono sotto le macchine! Vai, vai via! No! Non andare sulla strada! Vai via! Via! Vai nella foresta! Vai! Vai! No! Sto continuando sulla strada! Devi andare l'altra parte! Ti prego, salvalo! No! No! Salve vicino che sei venuto a trovarmi oggi! Come va? Tutto bene? Solo dei maialini che erano... Ma cosa ci facevano nascosti là sotto? Ma respiravano! È l'uccellino più cool alla moda che abbia mai visto! Lui sì che è un vero skater! No, 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 no! C'è l'acqua dentro! C'è l'acqua dentro! No! Non lo scopri... Ah! Non c'è l'acqua! Meno male! Eh, poverino! C'è un altro pallone dentro! Cioè... Eh, volevi! Oh! Cos'è questa roba? Non... È panna? È panna colorata? Non lo so! Non sembra una cosa... Cioè, è bello da vedere! Non so da mangiare! E cos'è qua? Cos'è? Cos'è? No, 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 no! No! Sono sabbie mobili? Ancora questa specie di argilla che non è sabbia mobile? Ma non è nemmeno sabbia? E... E... Che schifo! Noi non toccherei mai sta roba! Chissà quanti batteri sono là sopra! Ok, ok! È bella questa cosa! No, no! Che schifo! Che schifo! Dai, non fa sta roba! Ok... Sei disgustoso! Sei disgustoso! Ok! Ah! Questa è la fabbrica delle valigie! No, la fabbrica delle valigie! E puoi vedere... Ecco! Ah! Bello, eh! È soddisfacente da vedere sta cosa! Guarda! Sembrano delle bolle che poi diventano... Ok, cos'è questo? Wow! Sta mettendo un pugno in un'altra dimensione! Pugno nell'occhio di un gigante! Non so che cosa sia sta roba sul serio, ma è fighissima da fare! E la faremo! Segnatevi queste parole! Non so quando! Un giorno noi andremo a uno di questi ristoranti! Però, aspetta cos'è? È ghiaccio secco? No! Vuole fare la bolla di sapone con il ghiaccio secco! Dai, scoppiala! 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 Dai, ti prego! Non puoi lasciarla così! Adoro utilizzare questi cosi! Però non me li fanno mai utilizzare perché poi divento pericoloso! E hanno ragione! Pulirei il mondo con questo! Prendilo, 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 prendilo! Ma perché non riesci a prendere? Perché non lo prendo? Una cosa importante! Mettetelo un mi piace al video! Due secondi ci vogliono! Due, guarda! Fallo! Fallo! Non me ne vado fino a quando lo metti mi piace! Vai! Bravo! Ti voglio bere! Io sono Vittorio! Grazie mille della visione! Noi ci vediamo come sempre! Alla prossima! Ciao!